No, niente, possiamo dire che sabato comunque c'è stata una prova, secondo me, positiva di carattere dei ragazzi in un campo difficile, quindi noi dobbiamo cercare di avere più equilibrio possibile all'interno dello spogliatoio e quindi penso che in questo momento ci sia un buon clima tra di noi, quindi quella è l'importante. La vittoria è importante, quindi cerchiamo di prepararci per vincere sabato. Il rammarico ogni tanto ci sta, però penso che il campionato sia veramente molto, molto livellato, quindi ho tolto il nome sulla maglia, il resto alla fine sono giocatori quanto noi, quindi penso che abbiamo dimostrato di fare buone partite anche contro squadre che sulla carta lottano per altri obiettivi, quindi dobbiamo cercare di lavorare pensando che ogni squadra è alla nostra portata. Sto cercando di adattarmi ai ritmi di questo campionato il meglio possibile, allenandomi sempre al massimo e per ora i risultati sono abbastanza buoni. Comunque la prestazione di sabato, secondo me, la squadra si è comportata veramente bene e forse meritavamo qualcosa in più. Veniamo anche da un periodo che secondo me le cose non ci andavano bene, ci giravano storte, perché anche se analizziamo le prestazioni, secondo me subiamo veramente poco, però gli avversari ci puniscono alla minima occasione concessa. Quella di sabato invece, secondo me, potrebbe essere come ha detto lei, che il vento stia cambiando, speriamo, perché magari in altra occasione avremmo preso il gol. Quale partita ti aspetti sabato? Una partita dura, come tutte quelle che abbiamo affrontato fino adesso. L'avversario secondo me è forte sulla carta, però devono sempre dimostrare di essere più forti, perché abbiamo dimostrato che già possiamo giocare con tutti tranquillamente. Dipende solo da noi.